Peggiornano le condizioni dei lavoratori nelle aziende metalmeccaniche irpine al punto che gli operai di tre stabilimenti importanti incrociano le braccia per rivendicare diritti e dignità. La denuncia arriva dal segretario della FIOM CGL. Dopo lo sciopero di lunedì alla denso proclamato dai lavoratori per la mancanza dei minimi requisiti di sicurezza a tutela della salute a cominciare dai riscaldamenti, ieri hanno protestato le maestranze di Aurubis, del nucleo industriale di Avellino e di industria italiana autobus. A Flumeri i lavoratori hanno dato vita ad un'assemblea e subito dopo si sono fermati per un'ora per protestare contro la disorganizzazione del ciclo produttivo. Un'azienda allo sbando denunciano i sindacati. Il sistema secondo il quale a pagare le inefficienze siano sempre i lavoratori, sottolinea il segretario generale della FIOM CGL Giuseppe Morsa, non può continuare a esistere. La condizione dei lavoratori metalmeccanici nelle aziende irpine continua a subire peggioramenti costanti.